a due, la metto qui vai harvest valley facciamo una partitina farming oggi beati, sereni allora vediamo qua cercare la prebbia qua la la voilà Scariché, scariché. Voilà. Potrebbe essere lasciato il nonno a 620 ore di lavoro. Non c'è male. Vai operaio. Allora, io vado avanti a svuotare. Così. Tag. Non ti caricare la paglia. Vai. Questo tiene 200.000 litri. Mi duele di acquiescente. 65.000 litri. Hoppe. leave. Siamo in regione 2, che ho venduto un po' di attrezzatura che non mi interessa. Le dobbiamo comprare tante altre, quindi le prendiamo. La strada facendo. La stalla di mucche e maiali. La stalla di pecor l'ho venduta, le galline l'ho venduta e i cavalli l'ho venduta. Maiali e fiamanti mucche, tanto sono maiali. Segnato con il batanaglio, lo prendi da qua e vai. Siamo in regione 2. La paletta. Grazie. 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 Grazie.